Questo è dedicato a tutti gli artisti. Siamo costretti a intervenire in un'ottica di prudenza e massima precauzione per attuare ulteriori misure e per seguire la più stringente strategia competitiva e mitigativa del contagio. A noi che trasformiamo il mondo in bellezza. Le emozioni in arte. A noi che siamo messi in discussione da chi ci circonda. Durante lo show affrontiamo le difficoltà con coraggio. Faccia a faccia. La pandemia ci ha costretti alla pausa. Ma anche quando siamo giù, la nostra passione non ci abbandona. E lì, dentro di noi, freme. Questo è un invito a resistere. Adesso il nostro palco è cambiato. Non spaventiamoci. Ora più che mai c'è bisogno di bellezza. Torneremo sui tuoi riflettori. Più forti. Torneremo con la voglia di ricostruire una realtà diversa. Torneremo per dimostrare il valore dell'arte. Non smettere di creare. Grazie. 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 Grazie.